Da lunedì ci saranno i vigili, i carabinieri, i guerri di finanza ad aspettarci al varco su questa nuova legge, quindi dobbiamo stare molto, ma molto, ma molto attenti. Allora, diamo la prima notizia certa, ricordiamola, i 30 giorni iniziano a percorrersi dal 15 maggio, quindi qualsiasi multa verbale che vi fanno ci sarà sempre tempo fino al 15 giugno per opporli. Leggiamo e poi vi faccio vedere anche i trucchetti che sono in essere e noi ci dobbiamo tutelare perché noi cittadini onesti che seguiamo la legge vorremmo delle leggi certe, vorremmo delle leggi non interpretabili perché poi un vigile la interpreta in un modo, un finanziere la interpreta in un altro, ma purtroppo in questo modo fanno sì che ognuno, ognuno di quelli che poi ci mettono realmente la multa faccia quello che vuole tutti i congiunti. Quindi avete sentito i telegiornali che mentre la legge, questa legge, quella che i poliziotti faranno rispettare parla di congiunti, ieri sera, stamattina, un po' dei ministri, ministrelli, sottosegretari, hanno deciso così a voce, eccolo qui lo facciamo vedere perché facciamo sempre, ecco qui, hanno deciso a voce, questa è una legge scritta pubblicata sulla gazzetta ufficiale, a voce, ecco qui cosa dicono, il viceministro Sileri, l'amicizia è un affetto stabile e quindi si potrà far visita ad un amico se è un amico vero. Ecco, non faccio ulteriori considerazioni sulla giuridicità di questa sezione perché mi vergogno anche di una sezione del genere perché lo fa un viceministro della Repubblica Italiana che ha giurato come ho giurato io quando sono diventato avvocato, però cosa succederà? Cosa succederà? Nel momento in cui voi scrivete vado a trovare un amico, il poliziotto si metterà a ridere, probabilmente può darsi di no, ma potrebbe mettersi a ridere e dirà vi metto la multa, voi dovete fare ricorso, prefetto, giudice. Allora, dato che la legge, la norma, ecco sulla legge lasciamo vedere, la norma prevede, ricordiamo la frase, spostamenti per incontrare congiunti, dato che il garante della privacy ha già detto ufficialmente che non dovrà essere menzionato il nome del congiunto che si va a trovare, per evitare qualsiasi errore sul nostro modulo scriveremo sto andando a trovare un congiunto finito, il nome è vietato metterlo e non c'è bisogno di mettere null'altro, quindi se è un nostro caro amico noi ai sensi di legge dobbiamo scrivere congiunto. Infine, e questa è la cosa ancora più, vedete, guardate con quale caziosità qualche persona proprio con un cervello particolare è scritto questa norma, perché? Perché io posso uscire, però, ecco, rivediamolo insieme, eccolo qua, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa, anche perché poi al cittadino che magari non sa cosa significa ludica, perché non siamo tutti laureati o dobbiamo andare su internet a vedere un vocabolario, ludica o ricreativa? Ludica è il gioco, è la spensieratezza, quindi non possiamo uscire per passeggiare, non possiamo andare in giro a guardare il cielo, a guardare il cielo, gli uccelli che cantano, è vietato, ma se noi diciamo che stiamo facendo attività motoria, perché poi mi dovete spiegare se una passeggiata non è attività motoria, però quando scendete sotto casa, anche se state passeggiando perché siete anziani e non potete correre, ovviamente, o perché non vi va di correre, basta che scriviate sul vostro modulo che vi portate in tasca, ricordatevi che il modulo, l'autocertificazione, è la nostra salvezza, che che ne possiamo pensare? È vero, è logico, è legittimo, è incostruzione, ma è il modulo veritiero fino a querela di falso, fino a querela di falso, io scrivo, scrivo, sto facendo attività motoria, non devo dire null'altro, lo prevede la legge, qui non devo spiegare niente, do, consegno il foglietto al poliziotto che è venuto fino sotto casa mia per dirmi che sto facendo, mentre sarebbe stato anche più opportuno che andasse a restare un po' di spacciatore di droga, ma va bene anche questo, gli do il foglietto con scritto attività motoria e non devo dire null'altro, quindi non passeggiata ma attività motoria, siamo a disposizione di tutti i cittadini italiani, sempre, gratuitamente, finché durerà questa crisi e ricordatevi che non ci abbatterete perché le nostre idee continueranno a vincere perché è la giustizia che vincerà.